Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. Questa sarà un'anticipazione che ti lascerà senza dubbio a bocca aperta. La vita di Veice sembra essere appesa ad un filo. Dopo che è venuta fuori la verità, dopo un terribile litigio con Fechieli, la donna gli rivela tutta la verità e gli comunica che lei ha ucciso Unkar. E dopo questa confessione la donna vuole togliersi la vita. Ma i colpi di scena non finiscono qua. Prima di continuare se vi va, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ripartiamo. Veice alla fine si è rivelata con lei che ha provocato un dolore immenso ad Emir e tutti coloro che volevano bene alla matriarca. Dopo l'inseguimento Veice si è fermata con la sua auto ed è scesa e ha iniziato a correre attraverso i boschi. Zuleia e Fechieli che la stavano inseguendo riescono ad intercettare la donna vicina ad un burrone. Fechieli e Zuleia, entrambi furiosi, gli hanno domandato più e più volte come ha potuto eliminare la povera Unkar. Veice fa capire ad entrambi che lei è stata costretta a farlo perché se Fechieli si fosse sposato con Unkar, lei sarebbe rimasta senza nulla. Fechieli, sentendo tali parole, rimane sempre più incredulo mentre Veice continua a dire che Unkar era con lei che gli stava rovinando la vita. Fechieli, infuriato, consegna a Veice una pistola e gli comunica che se vuole una morte degnitosa deve spararsi. Allora la donna, in crisi, punta la pistola contro Fechieli e spara ma la pistola consegnata dall'uomo è priva di proiettili. Fechieli ancora una volta ha messo alla prova la donna ma lei ha fallito miseramente. Poco dopo Mujgan, che ha assistito alla scena, comunica a sua zia che è arrivato il momento di costituirsi alla polizia ma Veice gli fa capire che mai poi mai lo farà. Poco dopo anche Demir arriva sul luogo e punta la pistola contro Veice per eliminarla. Ma la donna, sorridendo, si getta dal burrone lasciando tutti i presenti scioccati. Mujgan sta passando uno dei momenti più brutti della sua vita. In poco tempo ha scoperto che sua zia ha ucciso i suoi due precedenti mariti e inoltre ha pure scoperto che suo padre è stato colui che ha coperto tutti i suoi crimini. La dottoressa in quel preciso momento iniziò a vergognarsi per davvero della sua famiglia. Oltretutto Mujgan rimase completamente incredula perché ha voluto tantissimo bene a sua zia e la donna si è rivelata una pessima persona. Il giorno seguente Demir comunica a Fechieli di seppellire il suo corpo lontano dalla città e in un secondo momento Fechieli comunica a Mujgan di seppellire la zia ad Istanbul. Fikret si offre per campagnare Mujgan a Istanbul e così i due partono. Mujgan sta soffrendo tantissimo per le notizie scoperte negli ultimi giorni e l'unica persona che riesce a tirarle un po' sul morale è proprio Fikret. Le anticipazioni terminano qua. Se il video è stato di tuo gradimento lascia un bel mi piace e iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Mara. Ciao!